Ben ritrovati presso lo studio della Bella Associato di Lecco, oggi in compagnia del nostro commercialista il dottor Stefano Della Bella. Ben trovati. Insieme per parlare di protezione del patrimonio e in particolare di aspetti societari, dottore. Sì, oggi ho preferito chiarire alcuni aspetti che trattano normalmente con i miei clienti, che sono due aspetti abbastanza semplici, che cos'è una società e come si può sfruttare al pieno le sue potenzialità. Argomento come sempre interessante, anche se può sembrare un po' ritrito, ne abbiamo già parlato più volte. È vero, ma preferisco dire un'altra volta magari una cosa che un nostro telespettatore già conosce perché è un bravo commercialista che gliela ha già detta, piuttosto che tralasciare degli argomenti che sono comunque alla base di una buona attività imprenditoriale e della vita in genere. Devo fare comunque due premesse di ordine generale. La prima è che vige un principio di generalizzata responsabilità patrimoniale da parte del soggetto, che quindi prevede che un soggetto risponde dei propri debiti con i propri beni presenti e futuri. E il secondo è che tralascerò numerosi argomenti relativi alla società, anche importanti, perché mi rivolgo all'aspetto societario solamente per quanto riguarda la protezione del patrimonio. Quindi oggi trattiamo la società come fosse un patrimonio destinato e facciamo due tipi di considerazioni che sono molto importanti, che dovrebbero determinare anche la scelta societaria da adottare. La prima è che il socio non risponde dei debiti della società di capitali e la seconda è che la società di persone non risponde dei debiti del socio a persona fisica. Quindi non abbiamo una forma societaria univoca che protegga dall'interno e dall'esterno il socio o la società. La figura che più si assomiglia a questo effetto è il socio a comandante nella società in una comandata semplice. Quindi ripetiamo, il socio non risponde dei debiti della società di capitali e la società di persone non risponde dei debiti del socio. Ce lo spiega meglio? Sì, partiamo dalla considerazione della scorsa volta in cui dicevamo che nelle società di capitali è possibile destinare una parte del patrimonio ad uno specifico affare. È un po' come se in una casa grande tirassimo un muro per tutta altezza e quindi dividessimo la casa in due sezioni non comunicanti. L'articolo 2447 del Codice Civile recita I creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare e per le obbligazioni e contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Praticamente è come se si creasse un sotto insieme all'interno dell'insieme societario e capita molto spesso nella realtà economica nostra che i figli chiedono dei prestiti ai genitori per iniziare l'attività economica. Ecco, qua viene fuori un consiglio date magari dei soldi ai vostri figli per iniziare l'attività economica non date mai dei crediti di firma, di garanzia o delle fiduzioni che poi sono sempre problematiche. Vi ricordate un po' quella parabola del figlio al prodigo? Il figlio a un certo punto va dal padre e gli dice dammi quello che mi spetta perché voglio iniziare la mia attività. In quel momento il padre è solido e divide il patrimonio dandolo al figlio. I creditori del padre quindi non potrebbero mai aggredire il patrimonio dato al figlio e i creditori del figlio che poi diventano tanti non possono più aggredire il patrimonio del padre. In quel momento lì si è separato il patrimonio destinandolo al figlio e i creditori di ognuno sono sempre creditori solo dell'uno non anche dell'altro. Quindi dottore se ho ben capito il disporre di un patrimonio che si tratti di soldi, beni o anche crediti immagino nei confronti di una società come effetto quello di non rispondere con quei beni dei debiti personali. Perfetto, hai centrato il punto. Chiarisco però che questa destinazione deve essere fatta in un momento in cui si è tranquilli ovvero si è capace di pagare i propri debiti perché non può essere fatta per distrarre bene dalla responsabilità nei confronti dei creditori. Torniamo all'esempio societario. Prendiamo un foglio bianco idealmente quel foglio bianco è tutto il nostro patrimonio. Se facciamo all'interno di un foglio bianco un cerchio stiamo distinguendo il patrimonio personale che è quello che rimane fuori dal cerchio da quello che c'è all'interno che è il patrimonio destinato alla società. Possiamo avere due tipi di società società di persone e società di capitali. Questo cerchio funziona in maniera diversa quindi se all'interno abbiamo un'attività rischiosa che possiamo identificare in un esempio come un vulcano su questo cerchio noi costruiamo un muro molto alto di modo tale che il rischio interno non esca e non vada a intaccare tutto quello che abbiamo fuori l'altra parte del foglio bianco. Invece le società di persone sono come una città medioevale abbiamo tesori e cibo all'interno e molta gente che vorrebbe entrare per prenderlo. Noi costruiamo dei muri molto alti in modo tale che le persone che sono fuori non possono entrare a soddisfarsi sulle cose che ci sono all'interno. Quindi dottore riassumendo rischio interno faccio una società di capitali rischio esterno faccio una società di persone. Se i rischi interni mi sono chiari puoi farci un esempio di rischio esterno invece? Per esempio un classico rischio esterno potrebbe essere il coniuge che si trasforma prima in separato e poi in divorziato quindi da coniuge diventa creditore la società di capitali non protegge la società di persone invece protegge. Tenete conto che in Italia il 50% dei matrimoni finiscono in divorzio quindi i creditori esterni ce ne sono tanti. Bene dottore come sempre è stato chiarissimo ma se voleste rivedere la puntata o anche le precedenti dove abbiamo già affrontato questo argomento vi ricordo che potete farlo sul sito www.ricorso-tributario.it oppure sul canale youtube di Teleunico dello studio della Bella. Ringrazio Stefano della Bella e ci vediamo settimana prossima con Fisco per Tutti. Arrivederci a presto! Grazie a tutti!